Il comune di Monte San Giacomo, guidato dal sindaco Raffaele Accetta, rinnova l'intesa con l'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di bello sguardo. Una buona iniziativa a tutela del territorio intrapresa lo scorso anno e che ora trova conferma per altri 12 mesi, fino all'ottobre del 2020. Un supporto a titolo di volontariato che il gruppo di ex appartenenti alle Forze Armate, ora in pensione, assicura all'ente. Con le loro competenze in materia di sicurezza e ordine pubblico, rappresentano un valido aiuto per un comune che attualmente può contare solo su vigili urbani presi a prestito da Sara Consilina. Domenica Ramagnano e Andrea Lasale infatti lavorano a Monte San Giacomo per 24 ore complessive a settimana. Va da sé che non si riesce in tale condizione a tenere completamente sotto controllo tutto il territorio. Il comune ha ritenuto proficue le attività svolte dai volontari nel corso dell'anno passato, ha colto quindi l'opportunità di rinnovare l'accordo. Anche per il prossimo anno effettueranno attività di osservazione e segnalazione per prevenire situazioni di degrado o azioni illecite. Il protocollo d'intesa rinnovato, come spiega il sindaco Raffaele Accetta, prevede lo svolgimento di specifici compiti da parte dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Bello Sguardo e riguardano la tutela del patrimonio comunale, il controllo delle aree pubbliche, la vigilanza ambientale per prevenire fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti, il controllo delle aree montane contro il pascolo abusivo. Saranno poi di ausilio alla polizia locale in occasione di sagre, manifestazioni, festività religiose e civili.